La scena vista al minuto 82 di Brindisi-Barletta, partita vinta per 2-1 in rimonta dalla formazione allenata da Francesco Farina, riassume al meglio tutta la garra di Marco Milella in campo. La maglietta del numero 2 Biancorosso si strappa in un contrasto di gioco e l'arbitro Marra lo invita a uscire dal terreno. Milella accetta malincuore, si becca i fischi del pubblico di casa, richiama l'attenzione della panchina, chiede di prendere rapidamente del nastro adesivo e torna in campo con quella maglia ricucita in maniera artigianale, pronto a riprendere il suo posto sulla fascia destra della difesa e a festeggiare al fischio finale da leader tre punti pesantissimi che lo portano insieme alla squadra sul secondo gradino del podio nel girone H di Serie D. Quelle immagini d'Alfanuzzi che ci riportano a un calcio che fu raccontano l'essenza del legame tra questo lottatore arrivato in squadra nell'estate del 2017 dal Vieste e capace di totalizzare più di 120 presenze in biancorosso e Barletta, realtà intesa come piazza, maglia e tifoseria, un rapporto totalizzante che Milella ha costruito negli anni con le uniche armi che conosce, il carattere, la grinta, il sacrificio e la volontà di dare tutto per il club in cui gioca, anche accettando una metamorfosi tattica e tecnica, quella che gli ha proposto Francesco Farina dal suo arrivo in panchina, non più mediano ma terzino destro. Marco, 33 anni a dicembre, ha indossato l'elmetto e ha obbedito, aggiungendo all'interpretazione del ruolo fisicità, esperienza e la giusta dose di malizia. Non a caso, dopo le prime due giornate di campionato contro gladiato Remmolfetta avviate dalla panchina, non è più uscito dall'undici titolare e quando è stato sostituito a gara in corso, vedi all'intervallo, nello 0-2 contro il Martina alla sesta giornata, i risvolti in chiave negativa si sono notati. I compagni di squadra lo chiamano ispanico, omaggio al gladiatore di Russell Crowe. Lui risponde inseguendo nuovi record di presenze con il barletta e sudando la maglia, sempre anche a costo di strapparla e ricucirla con del nastro adesivo.